Si profila l'ipotesi dell'affitto con riscatto in merito alle case ex armellini di Ostia per le quali il Tar del Lazio ha chiesto lo sgombero entro febbraio. Durante la commissione trasparenza che si è tenuta in Campidoglio, il direttore del Dipartimento Politiche Abitative, Aldo Barletta, ha fatto sapere che il Comune si appresta ad acquistare le palazzine attraverso la formula del rent to buy, utilizzando i fondi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La trattativa è in corso, dunque gli inquilini regolari non correrebbero rischi e probabilmente saranno trasferiti solo per il tempo necessario ad eseguire i lavori di ristrutturazione. Discorso diverso per le 380 famiglie occupanti senza titolo, per le quali al momento non è prevista alcuna tutela. Gli eventi diritto, anche se irregolari, non possono essere sbattuti sul marciapiede, ha dichiarato Marco Possanzini di Sinistra Italiana. Prima di ogni possibile iniziativa amministrativa va trovata loro una ricollocazione certa. Inoltre la soluzione non può essere quella di dare altri soldi pubblici alla famiglia Armellini, acquistando immobili disastrati con una formula che graverà sui residenti. In effetti è stato stabilito che l'attuale proprietà si occuperà delle situazioni più critiche, mentre non è chiaro chi dovrà sostenere i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria. È senz'altro un bene che dopo tante sollecitazioni il Comune si stia occupando della questione, dichiarano il consigliere capitolino Giovanni Zannola e il segretario PD del decimo municipio Flavio De Santis, ma si deve fare tutto il possibile per tutelare i nuclei in disagio abitativo affinché, pur nel rispetto delle regole, nessuno resti in mezzo ad una strada. Inoltre, prima di procedere all'acquisizione, l'amministrazione deve pretendere che sia la proprietà a mettere in sicurezza e a ristrutturare gli stabili affinché l'operazione non ricada sulle spalle degli inquilini, concludono Zannola e De Santis.